ciao bentornati a tutti solo un breve commento sulla coppitalia è proprio una cosa veramente breve stavolta perché così volevo solo dire due parole allora fiorentina parma fiorentina parma di coppitalia io per prima cosa devo fare i complimenti alla squadra i complimenti anche a pecchia perché un primo tempo così non lo vedevo credo da tre quattro anni minimo quindi hanno fatto fatto una partita splendida è finita con una sconfitta in rigori contro la fiorentina che praticamente in zona champions e quindi lato mio sono serenissimo e contento della partita che è stata un primo tempo meraviglioso però c'è sempre un però è il però che volevo dire questo qua allora la partita diciamo a livello di singoli posso solo dire che bernabè è su un altro pianeta man è su un altro pianeta un man che non era così ma è diventato così e adesso tornato dall'infortunio mini infortunio sta tornando come prima su livelli stratosferici con dei numeri atomici bernabè fantastico e un eino che ogni volta che viene chiamato in causa comunque si fa vedere una grinta atomica anche lui che dire però c'è un neo allora c'è un picchia gioia e dolori nel senso che caro il mio amico pecchia allora questa partita proprio per dire due parole cosa ti volevo dire ti volevo dire questa cosa qua ma anche tutti i tifosi d'ascolto allora se la copitalia la impostiamo per dire ma vabbè magari andiamo a firenze becchiamo due o tre gol vabbè allora ci sta che mettiamo in panchina i big e boh ma se invece tu mi parti con una formazione diciamo di ottima fattura magari non titolarissima ma di ottima fattura e e giustamente sei partito come se me dovevi partire con una mezza via ok poi però cosa succede succede che secondo me dopo qualcuno mi coraggerà secondo me se tu ti trovi a fine primo tempo ok che magari stai beccando due o tre penne dalla fiorentina come ci poteva tranquillamente stare ok allora ci sta che poi mi fai mi fai scendere tutti i più buoni mi fai giocare anche il primavera mi fai giocare chi ce ne voglia ok però quello che non ci sta secondo me nel tifoso è che quando tu vedi che sei due a zero un primo tempo stellare meraviglioso una roba incredibile ok in cui potevi fare anche tre o quattro a zero perché ci siamo mangiati di ogni però c'è da dire che abbiamo fatto comunque anche due gol no se tu ti trovi che sei due a zero al primo tempo e ne potevi fare altri due almeno allora cosa pensi secondo me il ragionamento dovrebbe essere questo qua un ragionamento corretto allora io avevo ipotizzato che potevo magari beccare due o tre penne dalla fiorentina e quindi poi mettere su le scamorze che o comunque non scamorze ma comunque anche i giocatori più panchinari che vuoi del mondo ok ma quando ti trovi due a zero a fine 45 minuti tu devi pensare una cosa che a quel punto lì il risultato dici cavolo io non me l'aspettavo ma due a zero in casa della fiorentina allora la coppa italia posso anche farci un pensiero nel senso non di vincerla ma di andare avanti perché è una grande vetrina perché andrai a affrontare quasi sicuramente l'intea e sappiamo cosa è successo l'ultima volta con l'intea detta questa cosa faccio io a maggior ragione le persone che hanno fatto bene il primo tempo le metto su magari aggiungo anche un altro titolare e metto tiro via uno che magari sta facendo benino o comunque metto su un altro titolare posso dire un titolare ok invece tu cosa fai ci poteva stare se stavi prendendo tre a zero no tu cosa fai secondo tempo al sessantanovesimo questo qua dici della partita perché al sessantanovesimo tu che cazzo mi fai al sessantanovesimo mi fai uscire il faro del parma di quella partita lì con la fiorentina cioè chi secondo voi chi è il faro di questa partita che ha illuminato ha fatto quel cazzo che ce ne aveva voglia e sembrava di averci messi in campo con dei lanci millimetrici il signor bernabè allora siccome bernabè ha fatto una partita favolosa stava facendo una partita favolosa tu cosa fai a questo punto potevi portarla a casa no cosa fai no ma sai bernabè sai c'è il palermo domenica aspetta va che lo tiro giù che tanto ormai magari è fatta no sto cazzo è fatta la fiorentina è da giornal champions e quindi cosa succede che poi l'abbiamo presa in quel posto l'abbiamo presa nel culo va bene allora l'abbiamo presa nel culo per colpa non solo tua ma principalmente tua perché se tu se tu la savi su bernabè questa partita noi la portavamo a casa tu l'hai fatto scendere cosa è successo guarda sarà un caso è sempre il solito caso dopo dieci minuti secchi abbiamo preso il primo gol e poi ne abbiamo preso un altro all'ottanta ovviamente all'ottantanovesimo prendiamo il secondo gol che così completiamo l'opera allora la colpa è tua primo perché sei tu che hai fatto la prima mossa del cazzo al sessantanovesimo al sessantanovesimo hai fatto scendere bernabè i motivi non li so sicuramente stava bene quindi tu l'hai fatto scendere o per risparmiartelo per il palermo o non lo so ok non certo per fargli fare la standing ovation perché l'importante era portare a casa il risultato ecco quindi siccome tu l'hai voluto risparmiare per il palermo no invece hai fatto la cazzata perché in questo caso non stavi perdendo 2-0 3-0 e quindi potevi anche far scendere tutti per me ma no tu stavi vincendo 2-0 con un gran figurone invece ci siamo trovati a fare una figura del cazzo perché a farci recuperare la partita all'ottantanovesimo e dopo dieci minuti che bernabè è sceso ma anzi dopo 30 secondi la partita era già finita perché abbiamo già visto cosa è successo al centrocampo quando è sceso non era più il parma stellare che stavamo vedendo non si riusciva più a far smistare i palloni bene eccetera il risultato ci siamo beccati una fiorentina all'arembaggio e noi vabbè potevamo fare gol magari in contropiede ma era un gioco diverso c'eravamo meno precolosi in qualche parola era parma in difesa far muro tipo tipo il su Tirol e la fiorentina che attaccava per cercare di recuperare boh il risultato è questo qua boh quindi hai fatto scendere bernabè hai rovinato la partita hai buttato nel cesso la coppa italia o comunque la possibilità di andare avanti e quindi avere una vetrina ancora più prestigiosa l'hai voluto fare tu la cazzata l'hai fatta tu benissimo a questo però per onestà aggiungiamo chi aggiungiamo il signor Osorio ok perché Coulibaly avrà fatto pure una cazzata sul primo gol perché non si sa perché cioè non è andato avanti contro l'attaccante che stava per cacciare in porta a due metri dalla porta non c'è andato incontro per cercare di diciamo contrastare in tiro e non si sa per quale motivo però alla fine quello era un 2 a 1 comunque ma il 2 a 2 all'ottantanovesimo chi è che lo causa il nostro mitico adesso il nostro miticissimo Osorio di cui tu hai una non si sa perché una fiducia smodata cioè può fare ogni volta lui ogni tre partite una cazzatona la fa se non due su tre ma almeno una ogni tre ti fa la cazzatona tipo questa per colpire di testa allontanare un pallone ovviamente lui colpisce così ma allarga pure le mani ma no ovviamente se la palla è qua la testa va qui dove c'è la palla no non ci vanno le mani quindi lui fa finta di svettare di testa contro il pallone invece svetta con la mano quindi con la mano contro il pallone risultato calcio di rigore ovviamente perché noi non ce ne perdonano mezza involontario no caro mio signor Jordan Osorio ti ha fatto la casseda Pecchia l'ha fatto la prima perché è lui che ha determinato comunque un parma diverso togliendo Bernabè che era il faro della squadra in quel momento e ovviamente tu hai dovuto completare l'opera perché mi hai detto sai se non faccio io la cazzata di far pregiare la Fiorentina chi la fa aspetta che la faccio io vai all'ottantanovesimo è ora che faccio la cazzata se no qua finisce la partita e il parma vince allora facciamo la cazzata quindi Osorio decide di farci eliminare la Coppa Italia facendo pareggiare la Fiorentina supplementari eccetera eccetera quindi fine ciao a cazzata atomica comunque cazzata atomica perché cioè ok detto questo ho detto tutto quello che volevo dire quindi sarà uno sfogo incazzato sono già nove minuti di video quindi io vi saluto e vi dico peccato perché è stato un grandissimo parma di cui comunque vado orgoglioso una partita bellissima ok un primo tempo fantastico ok ho 69 minuti fantastici della verità un leggero caldo nel secondo perché la Fiorentina giustamente ha un po' d'orgoglio ma se non scendeva Bernabè 90 volte sul 100 noi la portavamo a casa è un Bernabè così perché dopo è stato Gramo ma ha fatto 70 minuti di applausi quindi ok niente vi saluto ci vedremo per il dopo partita di Parma a Palermo speriamo caro il mio pecchia a questo punto visto che Bernabè l'hai fatto scendere che col Palermo magari ci prendiamo i tre punti perché sennò veramente non è servito un cazzo quindi speriamo in bene l'abbiamo fatto risparmiare e mi raccomando fallo giocare va bene vi saluto alla prossima speriamo meno incazzati come vedete le luci sono comunque luci positive giallo e blu diciamo perché perché per me questa partita è comunque positiva perché una squadra ha giocato benissimo l'ha cazzata l'ha fatta l'allenatore e l'ha completata ovviamente Osorio perché lui ci vuole mettere il becco e niente però è sicuramente vista la prestazione non posso che dire luci positive un saluto a tutti la magia si con voi forza Parma andate in pace e restate sul canale supportateci ciao